6 di mattina, ho fatto una promessa. Oggi inizia il mio ultimo semestre delle lezioni, probabilmente anche l'ultimo della vita. E qual è il problema? Che sono lezioni obbligatorie in presenza. E non vado in presenza da ben due anni. Sì, sto facendo bui sopra perché ho perso l'audio. In due anni le mie abitudini sono un tantino cambiate. Non ho più tanto tempo come prima, andare lì ogni giorno mi risulta difficile. Però, il po' a reggio qui non mi stava venendo, ma che succede? Invece eccolo qui, voilà, la cioccolata che si scioglie. Comunque, il problema è che se non vado in presenza a fare lezioni, non posso fare gli esami, tra tutto. E ritorna anche il problema del che mi metto? Forse così ci sta? Fantasia proprio. E la promessa è, vorrei provare a frequentare almeno per tutto il periodo di marzo. Per voi magari questo è un discorso superfluo e stupido. Chissà come andrà. Lo scopriremo.